L'overdrive a due facce di ispira mette insieme il meglio delle distorsioni british da un lato e americane dall'altro. Con tre manopole e uno switch si può gestire ogni parametro utile per passare da un leggero boost fino ad arrivare a livelli di guadagno belli tosti. L'overdrive a due facce di ispira mette insieme il meglio delle distorsioni british da un lato. L'overdrive a due facce di ispira mette insieme il meglio delle distorsioni. L'overdrive a due facce di ispira mette insieme il meglio delle distorsioni. L'overdrive a due facce di ispira mette insieme il meglio delle distorsioni. L'overdrive a due facce di ispira mette insieme il meglio delle distorsioni. Il Janus permette di avere sonorità completamente diverse nel formato di un pedale singolo. Non è un distorsore estremo ma nemmeno un overdrive leggero. È la via di mezzo per avere la sonorità giusta a portata di manopola. Leggi la recensione completa al link che trovi dalle schede. Iscriviti, commenta e dici la tua qui sotto e su accordo.it.